ARIETE Anche se dette d'impulso, le vostre parole verranno prese sul serio. CANCRO Anche se siete fuori allenamento, sforzatevi di dare il massimo e di non deludere chi vi osserva e conta su di voi. LEONE Questo è il momento di sfidare la sorte. Ci sono molte probabilità che otteniate ciò che volete entro la fine della giornata, purché siate pronti a mettervi in gioco. VERGINE Questo è il momento di concedervi una maggiore libertà e di godervi un po' di più la vita. Ultimamente vi siete imposti troppi limiti. BILANCIA Non c'è bisogno di fare chissà che per ottenere il sostegno degli altri oggi. Vi basterà essere sinceri e diretti. SCORPIONE Qualcuno sta cercando di obbligarvi a compiere una scelta che state rimandando di giorno in giorno e per degli ottimi motivi. Non accettate imposizioni. SACGITARIO Le vostre ambizioni potrebbero restare deluse oggi, ma probabilmente la colpa è vostra. State chiedendo troppo e troppo presto. CAPRICORNO CAPRICORNO Un gesto gentile verrà ricambiato prontamente e generosamente. Non esitate perciò ad impegnarvi in favore di qualcuno. ACQUARIO Fate qualcosa per migliorare il vostro rapporto con una persona che in questo momento soffre per la vostra distrazione. PESCI Avrete modo di battervi su un terreno che vi è molto congeniale. Questo è il momento di fare vedere a tutti quanto valete. CAPRICORNO